Ciao ragazzi e ciao ragazzi, oggi ho pensato di farvi il video un nuovo tag che ho inventato io al momento Cosa c'è nella mia cucina? Voglio far vedere come ho organizzato un po' la dispensa, eccetera che voi me la chiedete sempre quindi ho pensato, ma si faccio sta cosa fatemi sapere se ho una bella idea oppure, insomma, fa schifo spero di no comunque, allora, perché io sono un po' fissata per queste cose ci ho messo tutte le scritte, le cose, ho sistemato tutto ad esempio qua avrò questo mobile e come potete vedere ci ho messo tutto lo scotch ci ho scritto su, per esempio qua tengo tutti i cereali e appunto c'ho vari cereali questi qua, ci ho parlato buonissimi c'ho tutte le palline queste sono di quinoa soffiata, di segale poi c'ho l'avena, cammott poi c'ho questi qua che mi piacciono tanto questi di vivi verde copp e poi c'ho questi qua anche di benesi copp entrambi hanno ottimi ingredienti e questi sono integrali sono buonissimi questi invece sono troppo buoni io di solito li prendo alla frutta sicca adesso mi mamma ne ha presi alla frutta però con le nuci le cose sono ancora più buoni di questi poi c'ho tipo qua scritto snack e creme spalmabili tipo c'ho le uff, oddio adesso mi intercambi avrei tutto c'ho tipo tutte le barrettine vedete, tipo questa di amaranto che buona poi c'ho queste qua che sono buonissime e poi c'ho, vabbè, le proteine queste io le mangio sempre perché diciamo me le mangio come integrazione e poi c'ho questa qua a Nutella quella all'abbio senza lo di palma queste qua che io adoro follemente queste qua le nocciole di anacardi sono troppo troppo buone e la mitica Carlitella eccola qua che è quasi finita la nostra Nutella fatta in casa poi c'ho il cacao lo zucchero mascobato lo zucchero mascobato integrale di canna altri cereali poi qua sopra c'ho tipo gli spaghetti di soia che anche adoro questi qua di riso che anche ci faccio gli imbortini il pancarreo integrale insomma varie cosine poi qua a fianco invece ciò tante altre cose bellissime allora qua sotto frutta secca tutte le cose tipo le nozzole le mandorle tipo questi qua non so se ve l'ho detto già in qualche video di shopping bio con mia sorella io adoro questa marca l'oberasco che trovo alla coppa non pago neanche tanto sono questi sacchettini di frutta secca bio che veramente adoro uso anche come merenda a volte te le porti dietro sono le mandorle sia sgusciate che no vabbè poi c'ho gli anacardi poi c'ho questi qua è sempre la stessa marca viva la castagna evviva io l'adoro queste qua le castagne secche ci sono di tutti i tipi ci sono anche i tardicocchi poi c'ho qua le noci c'ho tante tante cose c'ho la farina di cocco c'ho questi qua questi del Lidl che sono il mix di frutta secca poi c'ho i datteri oh mamma mia quante cose c'ho ragazze poi qua c'ho tutti i semi e semini che io veramente sono fissata questi qua sono quelli l'anissime anche questi li compro alla coppa che uso tantissimo tantissimo ad esempio nell'insalata poi c'ho i semi di canapa ricchi di proteine che fanno tanto bene i miei amati i semi di sesamo poi c'ho i semi di lino li metto quasi tutti nelle insalate finocchietto poi c'ho le mie amate bacche di goci e i semi di chia là dietro poi qua sopra invece c'ho tutte cose diciamo cose nuove o riserva praticamente c'ho tutte cose che magari ecco già c'ho aperto e che quindi c'ho di riserva tipo la farina di mandorle poi c'ho la paprika poi c'ho il miele che tipo già c'ho aperto la salsa di reachi questa è ottima perché la salsa di reachi a differenza di quelle là in commercio questa è bio non ha zucchero è completamente sana infatti quando vedete le foto su instagram spesso mi chiedete ah ma mangi la salsa di reachi quello è pieno di zucchero fa male invece questa no il caffè bio di due marche diverse questo qua è quello del caffur sì questi qua sono tutti adena e preparati per fare il porridge che amo tantissimo qua sopra c'ho alcune delle mie tisane con la tisaniera vi ho fatto anche il video altre delle mie tisane un giuggino per farmi il cappuccino e poi tutte le cose per dolcificare per il caffè lo zenzero qua c'ho lo zucchero integrale di canna e tutti i dolcificanti che vi ho fatto il posto sul blog ho parlato di questi dolcificanti alternativi allo zucchero quindi sciruppo d'acero la stevia sciruppo di mila questo nuovo acquisto che devo provare e poi dietro c'ho i vari miele miele bio polini di fiori qua invece sopra il sale l'olio eccetera il mio bel mobile con tutte le spezie perché sono un amante un amante delle spezie tantissimo le amo il sale rosa poi qua c'ho queste erbe varie biologiche cacciantissimo per il peperoncino erba cipollina altre spezie mix le adoro troppo le metto sulle insalate sul pesce sulle verdure poi c'è la curcuma la paprika il peperoncino che sono le mie preferite assieme al curry in assoluto semi di papà il sesamo insomma tutte queste cose per insaporire vari piatti assetto dedicato interamente alle tisane dove praticamente sono tisane biologiche lo sapete vi ho fatto il video quindi magari ve lo lascio nel box informazione senza che mi ripeto la potete vedere tutti alcune delle mie preferite tipo questa qua tisana silhouette tisana dopo pasto queste le con pasto è mancato e dopo pasto ancora ce sono di più questa ventre piatto che piace tantissimo sono sgonfiati poi c'ho anche il ciocotì amatissimo vabbè tè verde di tutti i tipi ok poi c'ho anche queste qua queste della yogurt vabbè ce ne ho tante qua invece biscotti e cose dolci dove praticamente ci sono le cose che magari utilizziamo per fare la colazione ad esempio tipo per esempio ci sono tutti i biscotti i miei preferiti sono questi qua lo sapete che poi ho riprodotto e mi faccio anche in casa però questi ce l'ho per l'emergenza infatti c'ho anche un pacco già chiuso col cure integrali senza alodi palma senza schienze poi c'ho anche questi qua questi dell'acce nero anche con le gocce cioccolato di stramo e quelli di pivi verde coppia integrale questi sono i miei preferiti che c'ho sempre non mi mancano mai poi c'ho un po' di cioccolato fondente che anche serve sempre lo mangio sempre questi mamma mia questi sono buonissimi tutti sani tutti buoni queste sono le fette biscottate questi sono altri biscotti buonissimi vabbè comunque tante cose buone per la colazione per la merenda qua invece spizio cose salate ho scritto dove c'ho tipo questi panini troppo buoni che appunto sono di farro troppo troppo buoni poi c'ho questi crackers questi l'ha comprati mia mamma e adesso sto vedendo che hanno proprio degli ottimi ingredienti poi c'ho il mio pan carrette integrale poi c'ho anche questo qua questo biologico di camut che anche in mancanza di quello là a volte l'abbiamo preso tipo questi crackers sono bio insomma varie cosine poi c'ho anche gli arachidi le arachidi sempre di quella marca buonissime anche questi qua questi come sono buoni ragazze questi sono tipo dei grissini però piccoline no a tocchettini di camut sempre di verde cup sono buonissimi invece poi da quest'altro lato qua c'ho ad esempio tutte le cose di scatolame legumi ad esempio io vabbè sono patita mangio tantissimi legumi quindi sai questi qua di Carrefour cioè mia mamma va al Carrefour e compra non so quante di queste scatole perché appunto ce le abbiamo per riserva perché costano poco sono biologici quindi ceci lenticchie fagioli poi c'abbiamo le polpe vive verde poi c'ho anche un po' di setan il tonno prendo sempre quella peffero qua c'ho tutte le farine farine ad esempio questa qua maggior parte sono tutte integrali vabbè c'ho vari tipi farina di farro di segale di avena ad esempio questa qua di avena ne ho tantissime di ceci veramente tante e questa ad esempio farina di farro integrale qua c'è olio aceto le salse di pomodoro queste qua e le conserve quella che fa mia mamma con i succhi qua invece al franco c'è quello più bello ovvero della pasta pasta tipo per esempio queste qua sono tutte le paste pasta integrale che è quella che mangiamo maggiormente questa qua dell'idol che vi abbiamo fatto il video che è anche ottima queste sono penne di camut sempre integrale sono buonissime questi vari spaghetti questa qua di riso anche troppo troppo buona poi c'è questa qua questa è di questa è bio questa è del lotion se non mi sbaglio è buona buona questa è quella sempre di berrand dell'idol altre integrali poi c'è sempre queste qua di verde copp sempre integrali vabbè comunque varie cosine tante tante gnocchetti sempre integrali buonissime e qua invece sono tutte le cose tipo riso couscous quinoa tutti questi cereali diciamo che alternative alla pasta tipo per esempio i vari tipi di couscous questo lo trovo al suo mercato e poi tipo queste qua la quinoa poi tipo questo qua è un riso che mi piace tantissimo è riso profumato troppo troppo buono poi ci sono vari tipi di riso vabbè ce ne ho tantissimi questo è il miglio che anche ci piace tanto poi c'è la maranto che anche ci piace tanto veramente ce ne abbiamo tanti 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 riso integrale che usiamo quasi sempre questo qua integrale al cenere anche questo lo compriamo sul mercato c'è anche sia a bianco infatti c'è pure bianco sta là dietro qua a fianco invece ci sono tutti i latte vegetale ad esempio c'ho questo qua di soia c'ho questi prova me li chiamo tantissimo quello di carfour di riso carfour avena questi le adoro macadamia nocione guardate ce li ho tutti perché li compro sempre perché ho paura di rimanere senza perché le adoro questo invece di avena e poi qua c'ho tipo la soia i legumi secchi quindi c'ho tantissime queste qua di soia che ne facciamo tanto quindi ci facciamo ad esempio il ragù vegetale di soia avete visto il video gli hamburger di soia poi c'ho anche tutti i legumi secchi tipo i fagioli biologici secchi poi c'ho questo è sempre soia poi c'ho il sale il sale rosa che sapete che io mangio questo qua e ad esempio questi qua sono altri legumi secchi insomma varie cose di legumi e soia quindi ragazzi spero che questo piccolo tour nella mia cucina vi sia piaciuto adesso devo mettere tutto a posto e fatemi sapere se vi è piaciuto e se vorreste vedere qualche altra cosa so pure cosa c'è nel mio figo anche se lo dovrei prima pulire il frigo prima di farvi vedere vabbè vi mando un bacio grande ciao ciao ciao